Perché studio per diventare infermiera se consegnerò pizza e pulirò tappeti per il resto della mia vita? No! Sei molto bella per essere una che pulisce tappeti, anche se forse dovresti dare una sistemata ai capelli. No, non sono i capelli, è la tua faccia. Fa la brava bambolina, portami uno spuntino. Lo sa che mi pagano per pulire tappeti, vero? Sei licenziata. Scommetto che non ha lavorato un solo giorno in tutta la sua vita. No! La mia attrezzatura! È il diavolo. Devo 3.000 dollari all'azienda per la nuova aspirapolvere e mi hanno licenziata. Alle persone ricche, è concesso tutto. Un milione di dollari! Luto! Non so che giorno sia. Non so neanche come mi chiamo. Amnesia, nella nostra cittadina. È lui. Ho un'idea. O puoi chiamarla anche giustizia divina. Sono venuta a prendere mio marito. Davvero? Sei mia moglie? In salute e in malattia, amore mio. Sono povero? Sì. Papà! Perché non mi assomigliano per niente? Abbiamo usato lo sperma di un donatore. Sono sterile. Passeranno a prenderti all'alba per andare al lavoro. Ho un lavoro? In realtà ne hai tre. Oh, lo voglio anche io. Ho un finto marito. Ciao, tesoro. Come è andato il tuo primo giorno? Perfetto. Cosa? Io devo lavorare. Dovremo portarlo in ospedale? Sto benone.